Può ripartire il pronto soccorso di Oristano, il comune di Oristano in prima linea contro la violenza sulle donne, non si placano le polemiche su Piazza Manno, a Macomer parte Lusca. Benvenuti, nell'ultimo aggiornamento dell'unità di crisi regionale si registrano 351 nuovi casi di Covid-19, si registrano 6 decessi, 3 uomini e 3 donne in età compresa tra i 69 e i 94 anni, le vittime, 3 residenti nella città metropolitana di Cagliari, 2 nella provincia del Sud Sardegna e una nella provincia di Sassari. Il dato progressivo dei casi positivi comprende 267 pazienti guariti. In provincia di Oristano si registrano 16 nuovi casi, portando il numero totale a 1.601. Il pronto soccorso dell'ospedale di Oristano può ripartire. Vediamo. Questione di ore. Il pronto soccorso riaprirà i pazienti non Covid. A dichiararlo è stata la direttrice dell'ASL oristanese Valentina Marras nel corso della riunione indetta dalla Commissione Speciale Sanità Oristanese, svolta ieri 24 novembre. La riapertura sarà resa possibile grazie anche alla trasformazione dell'ospedale Marino di Cagliari in ospedale Covid. Quest'ultimo accoglierà i pazienti Covid che oggi si trovano all'interno del pronto soccorso dell'ospedale San Martino. Intanto l'ASL è a lavoro per migliorare la situazione. Lo scopo prefissato è preservare i cosiddetti percorsi puliti senza il passaggio di pazienti positivi al Covid. Per farlo sta allestendo le tende pre-triage dove saranno fatti i tamponi veloci. Sarà attivo da giovedì 26 novembre nello spazio Smart di Torangius il Drive Throg della Difesa per l'esecuzione dei tamponi molecolari per la ricerca del virus. L'accesso all'hot spot sarà riservato esclusivamente ai cittadini che ricevono l'appuntamento dal servizio di igiene e sanità pubblica dell'ASL di Oristano, previa segnalazione dei medici di medicina generale, guardia medica o pediatri di libera scelta. Agli utenti privi dell'appuntamento programmato e comunicato dai servizi sanitari territoriali non sarà consentito l'ingresso. Anche quest'anno il Comune di Oristano è in prima fila per la giornata internazionale contro la violenza alle donne. Vediamo. Il Comune di Oristano in prima linea contro la violenza sulle donne. Gli assessorati all'artigianato, alle politiche sociali e alla cultura hanno infatti varato una serie di iniziative per tenere alta l'attenzione sulla piaga sociale rappresentata dalla violenza contro le donne. Oristano è la città di Eleonora d'Arborea che sei secoli fa promulgò la Carta dei Logu, ha affermato il primo cittadino di Oristano, uno dei più antichi esempi di codici di legge rimasto in vigore fino all'Ottocento che conteneva norme contro la violenza alle donne. È un grande esempio di civiltà giuridica, sociale e morale che mai come in questa giornata simbolo assume un valore universale. All'ingresso del Palazzo Campus Colonna una nuova installazione ceramica delle scarpette rosse con delle farfalle che spiccano il volo in senso di libertà accoglie i cittadini, sottolineando la battaglia sociale e l'impegno civile della città della giudicessa contro la violenza e le discriminazioni di genere, ha affermato l'assessore Maria Bonaria Zedda. Violenza e discriminazione sono condizioni radicate nel mondo così quest'anno vogliamo dedicare l'allestimento delle scarpette alla memoria dell'anniversario della tragica uccisione delle tre sorelle sudamericane, Patria Minerva e Maria Teresa Mirabal, ed è la loro coraggiosa testimonianza. Nel sessantennale di quel tragico evento, assieme alla scarpetta rossa, anche la farfalla vuole caratterizzare il connubio delle nostre tradizioni giuridiche, culturali e civili e quelle del nostro artigianato artistico. L'allestimento, foggiato dai ceramisti oristanesi, resterà visibile nella casa municipale come messaggio contro ogni violenza di genere. Questo non è amore. Anche la Polizia di Stato scende in campo nella giornata contro la violenza sulle donne. Se minaccia la tua libertà, anche economica, non è amore. Se minaccia te e i tuoi figli, non è amore. Se ti offende, non è amore. Se ti prende a calci, ti tira pugni e ti strappa i capelli, non è amore. Malgrado tutti gli interventi giuridici e gli strumenti di intervento, tra cui negli ultimi anni il cosiddetto Codice Rosso, le donne vittime di violenza continuano ad essere troppe. A dimostrarlo è l'ultimo report pubblicato dalla Polizia di Stato che fa parte del progetto di prevenzione. Questo non è amore. Per quanto riguarda la provincia di Oristano, si è rilevato che, nonostante l'emergenza epidemiologica da Covid-19 e il lockdown dello scorso mese di marzo, a discapito di altre tipologie di reatto, nel periodo gennaio-settembre le denunce per i reati di atti persecutori e maltrattamenti contro familiari e conviventi hanno registrato una debole contrazione. Sono aumentate sensibilmente invece le denunce per i reati di violenza sessuale, passate da 3 nel 2019 a 6 nel 2020. Nello stesso periodo di riferimento non sono stati commessi in provincia omicidi riconducibili ai reati di violenza di genere, omicidi di familiari con vittime donne o partner. Nello stesso periodo di riferimento sono state eseguite dalla questione di Oristano tra arresti e misure cautelari, 9 provvedimenti per i reati di maltrattamento in famiglia, 9 nel 2019, 2 provvedimenti per i reati di atti persecutori, 1 nel 2019 e 2 per i reati di violenza sessuale, erano stati 0 nel 2019. Nel 2020, tra i provvedimenti del questore Giusi Stellino, si segnalano i 17 ammonimenti per i reati di maltrattamento in famiglia, 28 nel 2019 e 1 per i reati di stalking, 3 nel 2019. La crisi Covid-19 ha fatto aumentare i nuovi poveri in Italia e ricade in particolare su famiglie con minori, donne, giovani e persone in età lavorativa, compresi i nuclei che prima non avevano sperimentato condizioni di vita così critiche. Per intervenire concretamente nel territorio di Cabras è stata definita una rinnovata rete solidare tra Flag Pescando a Sardegna, centro occidentale, l'amministrazione comunale, cooperative dei pescatori e le associazioni di volontariato locali vincenziane Sacrucuore e Anteas di Cabras, tutti insieme, uniti per l'integrazione e la crescita del mondo della pesca del territorio e per sostenere la comunità locale. Non si placano le polemiche sul progetto di sistemazione della Piazza Manno. Sentiamo. E' destinata ad estendersi la polemica sul progetto di sistemazione della Piazza Manno da più parti contestato poiché non entrerebbe nel merito e nella possibilità di porre in luce e quindi valorizzare quanto finito nel sottosuolo dopo le infauste demolizioni operate agli inizi del 1900 quando incauti amministratori consentiranno la demolizione della porta mari delle mura circostanti e della torre di San Filippo. Era la degna conclusione dei precedenti saccheggi delle mura medioevali con la loro sistematica demolizione comprese le 27 torrette di guardia delle quali solo una è sopravvissuta insieme a Portigedda. Per tornare a Piazza Manno e al progetto che si è aggiudicato l'intervento, questo viene in parte sostenuto da chi ritiene che sotto il lastricato non vi siano resti degni di rilievo, mentre altri ritengono che i resti dell'originario impianto esistono e proprio in questa piazza sono da collegare alla presenza della reggia degli Arborea, la parte sinistra delle carceri, in pratica quella più antica. Da questo edificio si dipartivano poi alcuni cunicoli sotterrani che scendevano verso il cuore dell'Auristano del Tempo, sino al monastero di Santa Chiara. Più di 4.000 imprese sarde pronte al passaggio generazionale. Con Fardigionato Imprese Sardegna ha espresso soddisfazione per lo stanziamento di 2 milioni di euro che la Giunta regionale, su proposta dell'assessore Gianni Chessa, ha destinato al passaggio generazionale tra i titolari delle imprese sarde e i figli o i dipendenti che vorranno subentrare nella gestione aziendale. Finalmente si è concretizzata la proposta che facciamo due anni fa, hanno dichiarato Antonio Mazzuzzi e Daniele Serra, presidente e segretario di Confartigianato. Questo è un intervento che, in modo tangibile, agevole il delicato passaggio di testimone tra generazioni imprenditoriali perché, soprattutto in Sardegna, il valore dell'artigianato si trasmette di padre in figlio. Se pensiamo a quante aziende cessano l'attività perché gli eredi dei titolari non riescono a subentrare, hanno aggiunto Mazzuzzi e Serra. E se pensiamo come questa questione interessi quasi 4.500 attività, possiamo immaginare quanto fosse atteso questo intervento. Attendiamo ora di poter leggere la delibera e cominciare a fornire assistenza alle imprese interessate. A Macomer parte l'USCA in città. Sentiamo Pier Gavino Vacca. Signor Sindaco, finalmente a Macomer verrà istituita l'USCA. Che cosa è e in che modo sarà utile? Le unità speciali di continuità assistenziale sono uno strumento fondamentale nella lotta contro la pandemia da coronavirus. I soggetti che si positivizzano al virus e che manifestano dei sintomi devono essere presi in carico da un soggetto specifico che non è il medico di base, per quanto sia importante il ruolo del medico di base che dovrà operare in sinergia con l'USCA, ma da soggetti, quindi da professionisti che sono attrezzati per poter fare una diagnosi precoce per monitorare il paziente ed avviare eventualmente anche una terapia precoce. è tempestiva, cioè col coronavirus bisogna giocare d'anticipo, non bisogna aspettare che la malattia sia gravi perché poi si va in terapia intensiva, si va in rianimazione e nonostante che i protocolli terapeutici siano sempre più avanzati, non sempre si riesce a vincere la battaglia. Quindi l'intervento precoce è fondamentale. Ma potranno praticare anche interventi a domicilio? Certamente, dovranno praticare interventi a domicilio, si dovrà ricorrere all'ospedale solamente per i casi più gravi. Quindi è uno strumento che serve anche a decongestionare gli ospedali dei ricoveri impropri. L'ospedale va destinato solamente ai pazienti critici. Qual è la sede dell'USCA? La sede dell'USCA sarà qui presso il distretto sanitario di Macomere. Vi sono delle interlocuzioni fra l'ATS e il gestore dell'RSA di Macomere che gentilmente ha messo a disposizione i locali per poterla inviallocare. Sono in corso in queste ore dei sopralluoghi per questo fine. Ma quindi l'RSA apre o non apre? Ecco, l'RSA così come RSA pura, per pazienti non Covid, in questo momento non può aprire perché i focolai di Covid nell'RSA purtroppo sono frequenti e anche difficili da controllare. E' più probabile, in un'ottica di solidarietà, che l'RSA potrà essere utilizzata come degenza per i casi di pazienti Covid che necessitano di un'assistenza non di grado elevato. L'amministrazione comunale di Soradile è ben consapevole dei problemi quotidiani che la cittadinanza si trova a dover fronteggiare. Ce ne parla Paolo De Sogos. Un antico adagio recita che a volte le disgrazie non vengono solo per nuocere. Ed è infatti così, se si osserva, l'incontenibile agitarsi di alcuni sindaci che hanno preso la pandemia per una continua esercitazione di narciso protagonismo che spazia in ambiti diversi. Tutto è rapportato alla dimensione di quanto a ministri, anche se in questo caso non sono disdegnate incursioni su temi e problemi che interessano altre comunità. E' dall'alto del suo municipio, del quale il signore, il sindaco di Soradile Pietro Arca si muove instancabilmente in più direzioni attraverso un frenetico agitare di proposte, inviti, sollecitazioni, ordinanze e divieti. In pochi giorni il giusto allarme per un'anziana priva di assistenza, la chiusura del paese per Covid, le borse di studi agli studenti del luogo, la richiesta di organizzare le tuvas, i progetti per il lago e la caserma di locale, l'offerta di case vacanze, i contributi per gli orti urbani e altro. Un compendio di iniziative che nel piccolo centro abitato, popolato da 355 anime, lascia comunque tracce, grazie anche alle ingenti disponibilità finanziarie del Comune. E ora ascoltiamo il punto di Paolo De Zogus sulla politica italiana. Lo chiamano fondo per esigenze indifferibili, che è il vecchio conio di fondo per esigenze parlamentari. La mutazione era dovuta soprattutto per evitare l'impatto di una misura che fa discutere. E sempre il Governo su questo provvedimento ha già provveduto a stanziare 800 milioni per l'anno in corso e altri 500 per il prossimo. Un miliardo e 300 milioni quindi che serviranno a pagare e rimborsare le spese che i singoli parlamentari incontrano per realizzare, si sostiene, proprie iniziative. In sostanza si tratta di un fondo fra i tanti esistenti che perpetuano condizioni di privilegi divenuti inaccettabili di fronte alle situazioni esistenti nel Paese. Ma si guarda anche a questo. Con 335 milioni stanziati, si va di bene, per le indenità infermieristiche riconosciute agli operatori dipendenti delle strutture pubbliche del Servizio Sanitario Nazionale. A decorrere dal 2021 un infermiere percepirà 2 euro e 58 centesimi. Dal 1 dicembre stop della Tirrenia ai diversi collegamenti con le isole maggiori e minori, azzerati i collegamenti tra Cagliari e la penisola. Sentiamo il nostro servizio. Approderà in Consiglio regionale per un dibattito il problema dei collegamenti tra la penisola e la Sardegna, interrotti per una parte di tratte che riguardano la Tirrenia, compagnia appartenente all'armatore Vincenzo Onorato. La mancata proroga delle onerose convenzioni pubbliche ripropone il problema mai risolto dei rapporti tra le istituzioni, Stato e Regione con privati che detengono il monopolio di servizi essenziali e per questo sono in grado di operare oltre ogni limite. Onorato passa per un insaziabile beneficiario di contributi pubblici erogati per mantenere in vita tratte che, secondo l'armatore, sarebbero in perdita. In pratica, secondo lo stesso, si tratterebbe di fronteggiare un costo sociale che ora sfiora i 50 milioni di euro. Trattative aperte e di non facile soluzione per via di precedenti non sempre lineari da parte di un imprenditore che taglia corto abituato al comando e conscio di non poter abbassare la guardia. In attesa che si determini un accordo, torna alla memoria l'immagine di un manifesto elettorale degli anni Sessanta che raffigurava un ponte che collegava la Sardegna con la Toscana, opera improbabile che doveva coprire la distanza di 416 chilometri via mare e 582 di percorso stradale. E questo è tutto, vi ringrazio per essere stati con noi, vi lascio ora con l'edizione nazionale. Arrivederci. Grazie a tutti.